Per me i soldi non sono un problema. Sì, la nuova casa è proprio sull'acqua. Gin Tonic Online. Apriamo alle 12. Sono le 12. 11.57. Adesso che ore sono? 11.56. Ehi! Ai, ai, ai! Sbettetela! Questa va licenziata. Non posso farlo a una disabilità. Cosa? Non è vero. Non è vero? No. Ti ho assunta come quota disabile. Sono un autista di Uber e non ho l'auto. Vieni su! I suoi hanno detto che se esco con il figlio mi danno una Bui Kregel. Hai problemi ad affittare la casa ma non ne hai ad affittare la vagina. Hai un tatuaggio di Bip Bip su tutta la schiena. Non puoi dire agli altri cosa fare del proprio corpo, no? Ti insegno a divertirti. Sono autorizzato a stare qui. Non puoi avere paura di tutto per tutta la vita, cazzo? Metti Barker, il tuo piccolo numero di sparizione è stato una vera benedizione. Congratulazioni. Metti quelle con la vagina che vai in lavastoviglie? È una persona vera. Da che parte della Russia te l'hanno spedita? È russa. No, cazzo. Devi imparare a divertirti. Avete visto Percy? 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 Scopare non va più di moda, eh? Inbasta! No! Oh mio Dio! Te lo sei scopato! Mi piace molto casa tua, è accogliente. Oh, mettiamo un po' di musica. Festa da ballo. Hai, 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 sei un tantino pesante per le mie gambe. Allora io sotto tu sopra? Sì, così va bene. We wanna S-R-E-A-K.